hanno sparato hanno sparato hanno sparato sentivo più 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 ho sentito non lo so perché sta molti maestro in chat attenzione dove anche il maestro in chat chi c'è in chat e il signor david torni il maestro sommo maestro bro mi sa che hanno sparato alla mia fortuna porco due c'è lo vero di tripod è finita basta basta perseguidarmi scongiuro pull blue super saian questo frisa so già che sta per morire oppure andiamo in pareggio ok vegeto ultra eccolo dietro no super saian 3 hanno cambiato le chance non super saian 3 c'è grande probabilità lf ma che sta di a 100 per cento gamma quindi piccolo revive noi gol però ha sbagliato banner è uscito oddio eccola reggito yell reggito non c'era due volte che la becco questa eh bello reggita master pack beta questa neanche quando neanche nella bella c'era sta roba rega neanche nella beta oh quarta sparking si bidel gialla si si rega fate uno screen vi prego fate uno screen ragazzi andiamo 500 alla 50 ragazzi è sempre quella del riscaldamento però questa volta la sento un pochino più caliente del solito forse bro bardock super saian genkidama no pull all ok super saian ok broli è ok pareggiano non vincere 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 bro ma perché perché devi vincere sempre così a caso sparking però ti giuro che si riesce reggita o vegeto yell don pugna lo schermo fortissimo ok non bel monitor che ti ho fatto un po l'ottant'amore no ce l'avevo già questo mi sembra fa vabbè 555 va bene va bene va bene va bene 5 300 tutto questo è per una multi 700 che c'erano al 150 per cento ma si dai ma che ci frega ma che ci frega mamma oddio c'è il team mamma mia allucinante bravo il tuo sa ma l'avete visto la dio alla montagna it e l'ho visto rega io l'ho visto che mi è schippato non l'ho fatto apposta non l'ho fatto apposta rega di casa mi sa per ria e non so se l'avete visto andiamo andiamo aspetta 4 no no e il quitte si su orange non puli su orange cioè ticket no voglio prendere gamma tanto non c'ho kiddo non me ne faccio una sega di ora è una merda orange piccolo comunque o cielo verde del podo potrebbe essere fica out e c'è scritto mamma mia assolutamente si ha ragione bambam pareggio pareggio aspetta edificata mi bravo bravo e canto per fare gino parigino rega 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 e fake out abbiamo trovato abbiamo trovato l'abbiamo trovata rega guarda finato ok guldo fake out legends è lì no no la metà è trovato gambizzato è arrivato gambizzato è trovato perché è perché già fatto la stand by già fatto esplode porco due talmi rega c'è un'altra pick out ragazzi c'è un'altra pick out calmi 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 però senza gamma 2 chiama gamma 5 ama gamma 1 e gamma 2 ma chiama chiama solo la misperazione però chiama dalle gratis scudo sempre è il momento è il momento anche blizzard come pompa sotto animazione universo no cielo rosso allora calmi rosso tre pod io nello scorso un latine se non sbaglio sì ho fatto trovare a qualcuno la ultra quindi io trovo cielo verde l'altra per fare un'animazione fa un po il cazzo che vuole diciamo che il continuo non è proprio meraviglioso però possiamo trastarlo ok io lo schifo ce l'ho sempre coperto bovello zenkai per la 14 è tutto lui grande potrà essere una nuova zenkai bash per 17 gt ooo 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 ma anche un trago troppo altruca io che eccolo guardiore che non ce la faccio più solo distrutto mentalmente chine cosa cazzo stai facendo proprio questo è calmo che sto cercando di trovare il gioco sali calmo ok ok calmi 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 raccalfi aspetta un attimo che devo fare un'altra cosa no sti più ve lo voglio coprire sono il momento no no sti buono sti buono tocca fare doppio tosci non funziona niente allora 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 calmi calmi ce l'abbiamo andiamo con il prossimo rega cioè io penso comunque che giocato in questo metà abbia paura io non voglio sapere nulla è effettivamente il box da scena merda e quindi è bello è stato ma se si mette che hai messa e dimitte guy l'hanno licenziato perché si rubano i personaggi dove tecari chi fa sta roba messa veniva depressione trasto il processo non provocai provocai l'hanno radiato da internet la in giappone funziona così smettete che cos'è l'ho messa non ho visto niente non ho visto niente tosci 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 oddio doppio tosci di 1 e 2 tosci 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 anzi te l'ho detto che la strat funziona l'ho chiamata io ma che cazzo ho visto ma cosa cazzo ho appena visto bro io non ho visto niente io non ho visto nulla cioè io ho visto solo tipo eh perchè io alla fine ho visto non c'era lo schifo ho detto mmmm io una sega sto guardando Kai sull'immagine di 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 legends io stavo con la testa Kai Dragon Ball Legends bro anzi la strat del master pack non delude mai forca puttana ti prego comunque questa deve essere l'antepidio questo deve essere il banner del video il doppio tosci z il doppio tosci z bro domani questa miniatura bro no bro perchè fieri può essere il back to back magari sculiamo no? anzi a me questo a me pare back to back faccio master pack faccio master pack rinnoviamoci dai a me pare un po' lo schifo oh goffo grazie mille per la sabbia regalata ragazzi parte il trenino sta partendo il trenino ragazzuoli sta partendo il trenino scusate no? ma io l'ho trovata con cielo verde primavera si è tipo beccato sta andata a po' la cazzo no si sento puzza senti puzza de merda? si può essere che si schifpa questa molto eeeh legends limited yamcha yamcha vabbè non è molto distante dal legends limited stiamo lì stiamo lì stiamo lì stiamo lì calmi ragazzi perchè non è finita ho mancato mo ti trova piccolo non ti trova il piccolo osso pure ma si no extreme o superiore no lo sento è back to back non ce posso crede non ci credo che è back to back abbiamo trovato gg è back to back rega gg con ex guarda il loading è più lungo questo è il gamma quello che poi si empaura gg con ex rega l'abbiamo trovato rega questa mi sa proprio l'animazione di full extreme ho questa sensazione allucinante pam destro un po' in panza mmm non lo so però la dieta bastardo super saian blu ok back tu un po' perde con te ma vince quindi mi sa che ha due sp non mi sa calmi 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 a due sp possono essere due lf trassiamo 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 buttate che cazzo mille per sabbia grada bro allora calmi calmi tanto lo skip ormai abbiamo c'è magenta che che gamma 1 e 2 non ci interessa dai 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 basta con sto coto basta chi è che ha fatto lo zencato a questo coto chi è che è lo psicopatico bastardo chi è ditemelo chi è chi è chi è chi è chi è questo uomo che ha fatto g7 zencato ai power q2 calmo chinello l'hai trovati oh tal e sembra nel troppo oh tal e sembra nel troppo oh tal e sembra nel troppo eh vabbè minchia 7 più vabbè stasera si sboccia si sboccia davvero però eh bam bam è arrivato al massimo non va più l'ho cliccato bro l'ho cucinato ma ce la faccio a non vedere questa animazione che la faccio a non vedere questa animazione eh sono dal tonico per me è blu eh cielo blu per me sono dal tonico cielo blu ci sto ma è possibile quindi un altro pg banner stai dicendo questo? bro non ce la faccio più aspetta che forse forse c'è un bel fake out qui me lo sento è un bel fake out succoso guarda se è il max guardalo il fake out guardalo guardalo le agenzie limitate guarda vabbè però 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 ci fotto ci fotto ci fotto va bene che vorrei stellare l'altro però ci fotto va bene così va bene così ci fotto va bene guarda il miei grey vabbè pazzesco 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 ci sto guys ci sto ci sto ci sto ci sto ci sto ci sto axter tocca le garechine e farvi giocare oh oh eh cielo verde ma il resto cucina eh cielo verde ma il resto cucina diamo calmi axter tocca le garechine e farvi giocare oh oh eh ce l'ho il sound per questo ce l'ho il sound per questo ma non posso trovare krillin oh aspetta che le fake out e qua funzionano sempre hanno fatto burà no non è vero ho trovato ho trovato ho fatto lo sburro di morgot è finito eccoci sedici chili nube ma perchè la mia vita fa così cagare aspetta aspetta oh 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 aspetta ancora madonna basta oh 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 vabbè porco dio Ok Ma regà Ok Se dal ticket vedo un broly Mi posso sentire male Abbiamo un 5% con l'elf Bella mi piace mi piace Questa di solito nel mio account è sempre l'elf Non sto scherzando però vediamo che succede Di solito nel mio account Questa è sempre l'elf ma io sto zitto e non dico nulla Ogni volta che hai detto l'elf è uscito Ian Io mi farei l'uomo Oh Dali ma è la seconda volta di fila che lo dico Calmi non è finita per un cazzo Per nulla guys è per nulla calmi Oh sfere È il momento È il momento Ormai tu Facci sognare Vabbè c'è broly Portali a 6 Perché perché regli se è blu però Ti prego ti scontri Broly Broly Eccolo broly Eccolo eccolo Portalo Portaci portaci in cielo Adiosong No 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 ok Calma Calma Oh oh Calma Assurdo Noi, 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 noi.